Il dolore e la soddisfazione per una sentenza giusta pervade il comune di Somma Vesuviana, del quale era originario Mario Cercello Rega, all'indomani della condanna all'ergastolo per i due giovani americani ritenuti responsabili dell'assassinio del Carabiniere. Plausa alla magistratura anche dal sindaco Salvatore Di Sarno, che dopo aver piantato un melograno in memoria di Mario, ha annunciato di volergli dedicare una scuola. È stato fatto un lavoro molto importante da parte della magistratura che ha finalmente posto per il momento la parola fine su questo omicidio. Comunque rimane il fatto che una persona, un uomo per bene, un eroe dei nostri tempi, come è stato citato da molti, non ci sarà più. Avevamo amici, ci conoscevamo da bambini. Alla lettura delle disposizioni della Corte d'Assise di Roma in lacrime i familiari, il fratello del militare ucciso, Paolo Cercello Rega, ha parlato di una sentenza giusta, rispecchia la gravità dei fatti e il modo barbaro e crudele in cui Mario ha perso la vita. Scoppia in pianto anche Rosa Maria Esilio, moglie di Cercello, che proprio nel giorno della sentenza, il 5 maggio di alcuni anni fa, ha raccontato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Mario. Soddisfazione unanime per la condanna all'ergastolo dal mondo della politica, da Salvini, Toti, Meloni a Gasparri e Pittella, mentre dal Dipartimento di Stato USA si limitano a confermare di aver messo a disposizione i servizi consolari per assistere i due cittadini americani condannati.